Eccoci qua, buonasera. Questa sera non partiremo dalle notizie da Glasgow, dove finisce la parte che riguarda i leader della conferenza dell'ONU, la COP26, un accordo di 100 paesi riguarda il controllo delle emissioni di metano, è un primo risultato, vedremo di che si tratta. Ma la verità è che partiremo con le ore decisive per la scelta su cui a quanto pare sta esitando l'autorità italiana del farmaco sulla terza dose per tutti. È evidente che è una notizia che riguarda letteralmente milioni di italiani e proprio nelle 24 ore, in queste 24 ore, si è molto discusso su possibilità, potenzialità, necessità, rischi delle terze dose, anche per un'inchiesta di report andata in onda ieri che ha provocato fortissime proteste di vari settori politici, del centro-sinistra e del centro-destra. Tutte le forze pro-vax, chiamiamole così, hanno protestato per i toni fortemente dubitativi. Ma qui staremo alla sostanza, ovviamente, della questione di fondo. Siamo alla vigilia di una possibile, probabile, dicono alcune voci di dentro all'AIFA, svolta appunto per il vaccino nella sua terza dose per tutti coloro che hanno fatto le altre due, se si tratta dei due vaccini RNA messaggero o la monodose di Johnson e Johnson. Vedremo poi, appunto, dopo le notizie da Glasgow sulla conferenza sul cambiamento climatico e la necessità di misure forti e congiunte dei paesi dell'ONU. Passeremo a parlare degli altri fatti. C'è ancora molto di cui parlare e tra cui, ve lo dico, c'è la visita di Bolsonaro in Italia. Sapete, ieri proteste a Padova, ma oggi una cerimonia che non poteva dar luogo a proteste dirette, visto che era la celebrazione dei caduti brasiliani nella Seconda Guerra Mondiale contro i nazisti. Bolsonaro però ha trovato tra le autorità soltanto Salvini, l'ex ministro dell'Interno, il leader della Lega che gli è sempre stato vicino, sia pure per interposto a Oceano Atlantico, che ha ricordato come Bolsonaro è stato ricevuto da Mattarella, è stato ricevuto da Draghi e voi gli fate il vuoto attorno. Non dimentico, e qui ha aggiunto un'esperienza diretta, che l'uomo che ci ha permesso di catturare Cesare Battisti, i governi precedenti, ovviamente il riferimento era a Lula e a Gilma, non ce l'avevano restituito. E queste sono le polemiche interne in una situazione politica che è ancora molto condizionata dal tutti contro tutti, così sembra, in vista delle elezioni del Presidente della Repubblica. Ci sono però altri fatti, sia internazionali che italiani, vi citerò solo il servizio che vedremo su un'inchiesta molto scottante di Roma, che non riguarda questioni economiche o di corruzione, riguarda il giro della cosiddetta droga dello stupro, in cui sarebbero coinvolti anche nomi o figure, profili, diciamo così meglio, molto di peso della città dei poteri. Questo è altro, 30 secondi, i titoli. Slitta per ora l'estensione della terza dose di vaccino, già prevista, come si sa, per over 60 fragili e personale sanitario. Gli scienziati dell'Agenzia del Farmaco hanno rinviato a domani o forse anche a dopodomani la decisione finale sull'ampliamento della platea ai coloro che hanno meno di 60 anni, innanzitutto tra i 50 e i 59 e poi anche tutti gli altri, oltre a chi è stato vaccinato con la monodose di Johnson & Johnson, che probabilmente avrà il richiamo per primo. Polemiche dopo la trasmissione televisiva di ieri, che ha definito la terza dose un business delle case farmaceutiche. Dalla conferenza sul clima di Glasgow tante promesse, ma anche un primo impegno. Unione Europea e Stati Uniti lanciano un'alleanza di oltre 100 paesi per ridurre del 30% rispetto ai livelli del loro scorso anno le emissioni di metano per il prossimo decennio. Sul tavolo anche quasi 20 miliardi di dollari per porre fine alla deforestazione entro sempre il 2030, ma c'è ancora molta strada da fare. Primo grande passo, dice il premier britannico Boris Johnson, ai leader che se ne vanno. Ora però parte il negoziato vero e proprio. Il presidente del Brasile, Bolsonaro, a Pistoia commemora i militari brasiliani caduti durante la liberazione dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. A riceverlo, ringraziarlo per l'estradizione di Cesare Battisti e a scusarsi per i contestatori di oggi e dei giorni scorsi c'è solo Salvini. Un incontro che riaccende la polemica per le posizioni che, come si sa, sono state via via negazioniste, omofobe, antiambientaliste e in patria di Bolsonaro sotto inchiesta nel Parlamento, da parte del Parlamento del suo Paese per la gestione della pandemia, con anche l'accusa di crimini contro l'umanità. In attesa di trovare un nuovo compratore per il Monte dei Paschi di Siena, il direttore generale del Tesoro ribadisce il percorso da seguire per il futuro della banca, richiesta di proroga dei termini della cessione alla Commissione europea con annesso nuovo piano industriale, aumento di capitale, obbligata riprivatizzazione entro i termini negoziati con Bruxelles. Niente banca pubblica, insomma. C'è un'inchiesta nella capitale che sta facendo fibrillare molti ambienti, come si dice in questi casi, di potere, quella sulla cosiddetta droga dello stupro, quella che si vende liberamente in Olanda ma che è proibita in Italia, basta una quantità minima per stordire, in un attimo si può anche arrivare all'overdose. Ci sono oltre 60 indagati, 39 sono stati arrestati e nelle quasi 300 pagine di ordinanza si parla di assuntori eccellenti, tra cui vertici militari, medici, un senatore e anche figure note alle cronache più mondane. Buonasera, in primo piano la questione vaccini. Perché? Perché l'AIFA, l'agenzia italiana del farmaco, è alla vigilia. Doveva succedere già stasera di una decisione che pare orientata per il sì, ma aspettiamo prima di vederla, che ci sia l'ufficialità per un'estensione della terza dose anche a chi ha meno di 60 anni e progressivamente a tutta la popolazione che si è già vaccinata. La terza dose come necessità? Vediamo. nessuna fumata bianca dall'AIFA sui richiami aggiuntivi del vaccino anti-covid. Gli scienziati dell'agenzia italiana del farmaco, riuniti per tutto il giorno, non hanno ancora dato il via libera alla terza dose per gli under 60 da estendere entro la fine dell'anno anche ai cinquantenni. Misure utili a prolungare la protezione collettiva dal virus e mantenere alta la guardia della lotta alla pandemia. È molto probabile a questo punto che la scelta della commissione tecnico-scientifica dell'agenzia sull'estensione della platea per un ulteriore richiamo del vaccino, slitti a domani. La commissione deve anche decidere se autorizzare un nuovo richiamo per chi sia immunizzato con il vaccino monodose Johnson & Johnson. Si tratta di 1.600.000 persone in Italia che a distanza di sei mesi dal vaccino dovrebbero ricevere una dose, cosiddetta booster, di vaccino Pfizer, così come avvenuto negli Stati Uniti per decisione della Food and Drug Administration. Alcuni governatori premono anche per stendere la possibilità di ricevere la terza dose di vaccino anti-covid ad altre categorie il più presto possibile. Il governatore Campano, Vincenzo De Luca, oggi ha dato indicazione per la terza dose entro novembre a tutto il personale scolastico e universitario che ha superato il sesto mese dalla seconda somministrazione. Solo così, sostiene De Luca, non saremo costretti a chiudere le scuole nei prossimi mesi. Proprio sulla scuola è atteso nelle prossime ore dai ministeri della salute e dell'istruzione la divulgazione del nuovo protocollo per la gestione dei contagi. L'obiettivo dichiarato è quello di mantenere al minimo la didattica a distanza. La quarantena per tutta la classe scatterebbe solo in caso di almeno tre alunni positivi. Con due alunni positivi al test anti-covid i compagni di classe non vaccinati andranno in quarantena. Chi invece si è vaccinato e guarito dal covid negli ultimi sei mesi potrà continuare a frequentare le lezioni in presenza monitorato con i test rapidi. Tutto mentre la campagna vaccinale segna il passo sulle prime somministrazioni. Siamo sotto la media di 20.000 dosi al giorno, mentre è stata finalmente raggiunta la soglia dell'83% della popolazione vaccinabile over 12 che ha completato la profilassi ricevendo anche la seconda dose. Insomma, si va alla terza dose per tutti? Probabilmente sì. Quello che è certo è che da ieri sera è diventata anche una materia di polemica fortissima tra la politica e il giornalismo. Per una trasmissione, una puntata di Report, la trasmissione di Ray 3 che considerava in un suo passaggio la terza dose anche e soprattutto così è parso come un business per le case farmaceutiche. Apriti cielo, oggi la protesta di molte forze politiche nei confronti della trasmissione. Purtroppo anche con richieste alla direzione generale della Rai, come si faceva un tempo non rimpianto. Qualche mese fa le incertezze potevano riguardare lo sputnik o la scelta del miglior vaccino fuori naturalmente del composito e variegato rumoroso mondo cosiddetto no-vax. Ora le attenzioni sono tutte puntate invece sull'opportunità della terza dose allargata anche per gli under 60 e non fragili, cioè in attesa che l'intendimento annunciato dal sottosegretario alla Sanità Costa si trasformi in qualcosa di più concreto, dando così il via alla seconda tornata di richiami. Ma come già successo in passato, tra le tante incognite che fanno da sfondo la vicenda Covid, sono proprio le attese le fasi più a rischio per un governo che ha rifiutato fin dall'inizio la via dell'obbligatorietà in un clima spesso anche esacerbato. È in questo spazio qui tra una demonizzazione e un tentativo di capire che possono nascere e crescere polemiche. Può bastare e avanzare anche un programma televisivo, specie se si chiama Report, specie se non nuovo a servizi per qualcuno urticanti, questo si chiamava Non c'è due senza tre, specie se va in onda sulla televisione pubblica, specie se insiste lungo l'insidioso confine tra il dovere di informare e il tentativo di indagare le ragioni di chi preferisce di no. In un contrasto in cui non è riuscita a restare estranea la politica. Mentre il nostro paese combatte la sua battaglia contro il Covid, c'è chi sulla TV pubblica parla di terza dose come business delle case farmaceutiche, protesta Rosato ed Italia Viva, ma evidentemente fa più business fare notizia anziché fare informazione corretta, dice. Sono stufo di queste accuse, ribatte Ranucci, sono vaccinato come tutta la redazione di Report, ma come giornalista devo essere libero di raccontare delle criticità, quali sarebbero i contenuti Novax? Credo che i parlamentari non abbiano visto il servizio. Italia Viva è la più viva, per dire così, anche per via di certe ruggini, nelle accuse contro il programma, ma non è la sola, perché all'attacco ci va anche il PD che chiede all'amministratore delegato Fortes di intervenire, perché, si legge in una nota del partito, lo spettacolo cui hanno assistito i telespettatori su Re3, non è altro che un lungo compendio delle più irresponsabili tesi Novax. E anche la stessa Forza Italia, Corruggeri, che interviene a difesa delle case farmaceutiche che hanno salvato il mondo. Scintille destinate magari a spegnersi presto, ma che danno bene l'idea di quanto bisogno, sempre più ci sia di decisioni certe da prendere, possibilmente senza rinvii. Ecco, beato il Paese che non ha bisogno di queste polemiche, permettete soltanto brevemente un commento al riguardo. Nessuna trasmissione giornalistica, nessun servizio giornalistico, nessuna presa di posizione per via televisiva o attraverso i giornali di un giornalista è evidentemente esente dal diritto di critica altrui, non siamo legibus assoluti. Però speriamo che sia finito il tempo che c'è stato pure in passato in cui il diritto di veto, in qualche modo sostanziale, soprattutto per quanto riguarda la TV pubblica, era in mano ai partiti. Non è stato sicuramente il miglior modo per sviluppare l'autonomia giornalistica. Poi i giornalisti possono anche sbagliare, i programmi possono anche sbagliare tanto e se qualcosa riguarda anche noi, se qualcosa si fa di sbagliato è giusto anche interrogarsi e nel caso chiedere scusa. Andiamo a vedere però cosa è successo oggi a Glasgow. La conferenza dell'ONU, il COP26, un risultato oggi lo ha raggiunto. Boris Johnson saluta i grandi che se ne vanno lasciandosi dietro una scia di promesse. Resteranno i negoziatori a discutere e combattere fino al 12 novembre. Sono cautamente ottimista, dice oggi in conferenza stampa il primo ministro britannico che invece alla vigilia aveva dato tutta un'altra impressione. Per ora dice definirei il risultato un pareggio strappato all'ultimo minuto. Ma di impegno, di promesse, di impegni appunto qui a Glasgow oggi ne sono arrivati. Quasi 20 miliardi di dollari sul tavolo per fermare la deforestazione entro il 2030. Dichiarazione sottoscritta da paesi che ospitano l'85% delle foreste del mondo e tra loro ci sono i due polmoni del pianeta, la foresta pluviale del Congo e l'Amazzonia di Jair Bolsonaro. Si aggrega anche Putin con le nostre foreste e dice facciamo la nostra parte contro l'inquinamento, anche se per gli scienziati non basta di certo. Unione Europea e Stati Uniti continuano a tirare la volata. Ursula von der Leyen e Joe Biden lanciano un'alleanza di oltre 100 paesi. Per ridurre del 30% rispetto ai livelli del 2020 le emissioni di metano entro un decennio. Non ci sono quote pro capita e non ci sono sanzioni, ma il passo è importante. Il metano è la seconda fonte di gas serra e la cosa importante è che se il carbone è più diffuso e resta nell'atmosfera per più tempo, l'effetto del metano è molto più forte sul riscaldamento globale. Eliminarlo davvero in base a quest'impegno ci farebbe guadagnare tempo prezioso. Perché è una lotta contro il tempo, quella alla quale tutti più o meno stiamo partecipando. Consapevoli certamente e drammaticamente ne sono i paesi isola o arcipelago quelli che finiranno sommersi. Lo dice Mia Motley, primo ministro di Barbados. Due gradi in più per noi, per le Maldive, per le Fici sono una sentenza di morte e siamo venuti qui oggi per dire provateci con più forza perché la nostra gente, il pianeta, ha bisogno delle nostre azioni adesso, non il prossimo anno, non il prossimo decennio. Consapevole adesso si dice Jeff Bezos, probabilmente l'uomo più ricco del mondo, attaccato dagli ambientalisti perché gioca a andare nello spazio, mentre potrebbe secondo loro fare cose molto più utili. Oggi dice proprio vedendola dall'assù mi sono reso conto di quanto sia fragile la terra. E Bezos con altri fondi entrerà nell'alleanza globale dell'energia, 10 miliardi di dollari per accelerare la transizione ecologica nei paesi meno sviluppati. Dentro ci sarà anche l'Italia, promette il ministro Cingolani. I soldi, aveva detto ieri Draghi, se arrivano i privati, non sono un problema. Fuori gli attivisti non perdonano nulla ai leader. Le vostre promesse dicono le avete già fatte e già tradite anche prima. Questi si sono vestiti per ricordare Squid Game, la serie tv coreana, e i leader giocano con le vite degli altri. Greta Thunberg in mezzo ai ragazzi canta slogan non proprio rispettosi verso i capi di Stato, ma come ha detto Draghi, senza la loro rabbia forse non si sarebbe mosso niente. E uno dei leader più contestati è ancora in Italia dopo il G20 per girare nei luoghi in qualche modo delle sue radici, perché ha anche origini italiane e nei luoghi che sono sacri anche nella storia militare di quel paese. E Jair Bolsonaro, il presidente brasiliano, oggi era a Pistoia, dove c'è il sacrario dei caduti brasiliani per la libertà nella seconda guerra mondiale, insomma, la parte giusta. C'è solo Matteo Salvini a Pistoia a stringere la mano al presidente Jair Bolsonaro che partecipa alla commemorazione dei soldati brasiliani caduti per la liberazione d'Italia durante la seconda guerra mondiale. Per il segretario della Lega, un trattamento inaccettabile per il capo di un paese straniero. Scusi per le polemiche di pochi, riescono a trarre motivi di divisioni anche in una giornata di memoria, di onore, di valore, di coraggio e di libertà. Salvini ringrazia Bolsonaro anche per aver estradato, Cesare e Battisti. Se avessimo dovuto aspettare i presidenti di sinistra, alcuni terroristi italiani sarebbero ancora liberi in Brasile, in spiaggia, a prendere il sole. Attacca al segretario del Carroccio. Ma alla cerimonia a Pistoia non partecipano il presidente della regione Gianni del PD e nemmeno il sindaco di Fratelli d'Italia che preciserà poi di essere stato trattenuto a Firenze da un impegno. Ma anche il vescovo Monsignor Tardelli si sfila mandando il parroco della vicina chiesa, mentre non lontano dal sacrario in piazza si ritrovano 200 persone circa. Ci sono varie sigle della sinistra, da rifondazione a sinistra italiana ai 5 stelle. Nel pomeriggio tanti di loro parteciperanno anche alla contro-commemorazione organizzata dal PD con CGL Ampi e Pax Cristi. Manifestano contro Bolsonaro per le sue politiche negazioniste, le posizioni omofobe, anti-ambientaliste. Il senato brasiliano ha aperto anche un'inchiesta per la gestione della pandemia da parte di Bolsonaro. Il capo d'accusa è pesantissimo. Crimini contro l'umanità. Polemiche incredibili, ribadisce Salvini. Bolsonaro è stato ricevuto da Mattarella e Draghi. Onorare i caduti dovrebbe essere al di fuori della polemica politica. Bolsonaro era stato contestato già ieri a Padova, dove era arrivato per ricevere la cittadinanza onoraria dal sindaco della vicina Anguillara Veneta, terra d'origine dei suoi avi. Salvini ha diritto ad elogiare, sostenere e incontrare chi vuole, ma non a parlare a nome del popolo italiano, non ricoprendo alcun incarico di governo e non presidendo alcuna assemblea elettiva. Il commento del presidente PD dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Una questione che riguarda la politica, l'economia, ma anche le tasche di tanti italiani, perché c'è la questione Montepaschi, che è ancora lì in alto mare dopo la conclusione, a quanto pare, della trattativa, conclusione negativa della trattativa tra il Ministero dell'Economia e quindi anche la banca di cui ormai il tesoro è proprietario provvisoriamente del 64% e Unicredit, che sembrava interessata acquisirne una buona parte, quella più interessante dal punto di vista di una banca privata. La sorte adesso di Montepaschi quale sarà? Alcuni hanno ipotizzato che possa essere un polo pubblico, il perno di un polo bancario pubblico, quello che è stato escluso oggi dal direttore generale del Tesoro. Dopo il clamoroso fallimento delle trattative per la cessione Unicredit di una parte delle attività del Montepaschi, oggi è stato il direttore generale del Tesoro, dunque dell'azionista di controllo dell'Istituto Senese Alessandro Rivera, a metterci la faccia di fronte alle commissioni riunite di Camera e Senato e a ribadire quello che dovrà necessariamente essere il percorso da seguire per il futuro. Futuro che, come Rivera ha affermato con chiarezza, gettando acqua gelata su ambizioni presenti in tutto l'arco politico, a cominciare da 5 Stelle e Lega, non potrà contemplare un MPS perno in mano pubblica di un terzo polo bancario o la sua trasformazione in banca nazionale di investimento. Ogni ipotesi di prossimo assetto del monte, infatti, dovrà necessariamente partire dall'assenza dello Stato nel capitale della banca e il perché è presto detto. Siamo nella banca in virtù di un aiuto di Stato e l'aiuto di Stato deve essere temporaneo, quindi siamo vincolati a uscire, definiremo un nuovo vincolo. Nuovo vincolo che lo Stato dovrà rinegoziare con la Commissione europea dal momento che, come ormai arcinoto, quello vecchio scadrà alla fine dell'anno. Un termine che evidentemente non potrà essere onorato dopo la fine dei negoziati con Unicredit, naufragati, ha confermato Rivera per incolmabili divergenze sull'entità dell'aumento di capitale e sulla valutazione del perimetro aziendale oggetto di trattativa. Sulla concessione di una proroga di durata adeguata ma al momento non quantificabile da parte del Ministero dell'Economia c'è cauto ottimismo anche alla luce del fatto che, ha specificato Rivera, è stato fatto tutto il possibile per procedere alla dismissione della partecipazione. Passaggi fondamentali perché il tutto possa stare in piedi saranno prevedibilmente una ricapitalizzazione mediante un'operazione che sappia convincere il mercato e risponda in modo rassicurante ai risultati degli stress test pubblicati a luglio dall'autorità bancaria europea e la presentazione di un nuovo piano che tenga conto della modifica degli impegni con Bruxelles. Modifica degli impegni che, ha affermato Rivera, richiederà ulteriori misure compensative a carico della banca, tradotto risparmi e tagli di personale. E' finito anche quella grande rave party alle porte di Torino che ha destato clamore, preoccupazione e fortissime polemiche e che ha provocato anche adesso, nel finale, l'azione delle forze dell'ordine. Gli ultimi a lasciare l'area del rave non ha autorizzato qualche furgone dei più riducibili a Nichelino a sud di Torino nel pomeriggio, poco dopo le ore 17.30. Anche oggi diverse centinaia di giovani sono stati identificati, non c'è ancora un dato certo. Nelle ultime 24 ore sono state oltre 3.000 le persone tracciate, circa 1.500 i mezzi tra auto, camper e furgoni spezionati. Tra qualche giorno, quando dalle indagini emergeranno elementi più chiari, è possibile che qualcuno di questi ragazzi sia denunciato per invasione di terreni e di edifici, il più evidente tra i reati contestabili. All'ex stabilimento Fiat Alice, ecco quel che resta di oltre 48 ore di sballo a ritmo di musica techno house, alcol e probabile uso di droghe, una torta finta con i fuochi spenti e sopra qualche bottiglia di vetro, una scritta francese che inneggia l'amore, i sacchi pieni di spazzatura accatastati, la festa è davvero finita. Quando questa mattina presto le forze dell'ordine sono entrate nell'area, c'erano ancora centinaia di persone, con i camper e furgoni i ragazzi dormivano. Sono stati svegliati dagli agenti che hanno intimato di andare via, il rave è concluso, nessun momento di tensione. Da ieri fino a metà pomeriggio di oggi il deflusso delle circa 4.000 persone è stato lento, l'intervento degli agenti questa mattina è servito per evitare l'occupazione abusiva di altri terreni, ha spiegato la questura in una nota. Sul fronte indagini la polizia postale lavora la chat di Telegram dalla quale è partita la convocazione. Per tutti l'appuntamento era sabato sera, dopo la mezzanotte erano già almeno in 6.000, altre migliaia erano attese, 20-25.000 i giovani previsti. Intanto si cerca di capire come di qualificare i 10.000 metri quadri di aria dismessa da molti anni, abbandonata al degrado e obiettivo troppo facile per feste illegali di così grande portata. Domani a Roma ci saranno interrogatori importanti in un'inchiesta di cui si parla pochissimo ma si vocifera tantissimo. È l'inchiesta che deriva dalla cattura di una figura importante nello smercio di stupefacenti nella capitale, particolarmente di quella ormai notissima droga dello stupro che è emersa in alcune vicende clamorose da figure vicine alla politica ad altre che stanno nel mondo religioso, ad altre che stanno nel mondo della televisione o imprenditori evidentemente senza scrupoli. Però qui si tratta di una persona che è stata intercettata mentre si vantava di fornire questa droga a persone che dal profilo non sono certo di poco conto nella Roma dei poteri. Quindi potete immaginare. Il terrore di Roma, di certi ambienti di Roma oggi si chiama Clarissa Capone. A 30 anni i suoi due cellulari sono in mano i tecnici dei carabinieri che stanno estraendo migliaia di numeri. C'è fretta di arrivare ai clienti di questa giovane donna, il braccio destro del capobanda Danny Beccaria che nei mesi scorsi, ignorando di essere intercettata, narrava al telefono le sue prodezze. Calcola che quando ci stava il festival del cinema io là ci andavo con lo zainetto pieno, ci stavano i giornalisti di tutto e di più e da là poi sono arrivata un politico. Da che ti fai il giornalista? Poi comunque la voce è arrivata pure all'assistente del politico. Sapeva quello che facevo e quando gli serviva la merce chi chiamava, chiamava me. A Roma è l'inchiesta più scottante del momento, quella sulla cosiddetta droga dello stupro, che in Olanda si vende liberamente e qui si può ordinare su internet. Si chiama GBL, con una bottiglia da un litro si ricavano 1200 dosi, sostanza liquida, pericolosissima, in odore, in sapore, in colore, basta una quantità minima per stordire, far perdere conoscenza, in un attimo si arriva all'overdose letale. Nella capitale ci sono oltre 60 indagati, 39 sono stati arrestati, in quasi 300 pagine di ordinanza si legge di assuntori di ogni genere. Un senatore che tutti, compresi gli inquirenti, pagherebbero per scoprire chi è, e anche medici, professori di liceo, vertici militari, funzionari di banca, direttori di comunità per minori. Eppure la sorella dell'attrice Ornella Muti, Claudia Rivelli, negli anni 70 star dei fotoromanzi e poi nuora dell'ex presidente della Repubblica Giovanni Leone. In estate si è giunti a lei seguendo un corriere che aveva prelevato il pacco con la droga a Fiumicino. Si è difesa spiegando di non sapere che prodotto fosse quello utilizzato dalla madre per pulire l'argenteria e ha detto che il pacco era per il figlio a Londra. Ai domiciliari attende l'interrogatorio di garanzia, l'accusano in due anche la domestica. Il GIP scrive che il figlio, Giovanni Maria Leone, effettuava l'ordine da Londra, facendolo poi spedire a Roma presso l'indirizzo della madre, intestando il pacco alla nonna con il pieno assenso della Rivelli. Una volta giunto l'ordinativo, la Rivelli provvedeva alla sostituzione del confezionamento e al travaso della sostanza in una bottiglia in maniera tale da farla risultare a prima vista contenere semplice shampoo, poi organizzando la nuova spedizione per l'Inghilterra. Allora andiamo a vedere qualcosa di molto grave perché nell'Afghanistan ormai in mano ai talebani non si è certo fermata la spirale di violenza. Anzi, l'Isis, l'Isis Khorasan, come si chiama la branca afghana dell'organizzazione dello Stato Islamico, quanto pare è l'Isis aver compiuto l'attentato di questa mattina al più grande ospedale militare di Kabul. Un uomo a bordo di una moto si è fatto esplodere al cancello e altri sono entrati armati nella struttura per il varco aperto appunto dall'esplosione. Hanno ucciso almeno 19 persone e ne hanno ferite una cinquantina. Gli assalitori sono stati poi tutti abbattuti dagli uomini della sicurezza. L'attacco è evidentemente l'ennesimo segnale del fatto che il paese non è pacificato, nonostante le dichiarazioni dei talebani, considerati dal ramo locale dell'Isis, appunto l'Isis Khorasan, come i traditori della vera fede islamica. Dopo di noi, a otto e mezzo, Lilli Gruber ospita Paolo Mieli, Sharon Cittone, Tommaso Montanari e Francesco Specchia. Poi c'è Di Martedì e tra gli ospiti di Giovanni Floris c'è proprio Sigfrido Ranucci, di cui abbiamo già parlato, ma c'è anche Walter Veltroni, c'è Luigi Di Maio, c'è Silvio Orlando. Ci fermiamo. Infine le borse, vediamo che Milano ha chiuso sostanzialmente invariata con un meno 0,06 per 100 nell'ultimo indice Futsi Mib, mentre invece in questo momento a Wall Street il Dow Jones guadagna lo 0,40%, il Nasdaq lo 0,22%. È tutto. Gruber Flores, ci vediamo domani sera. Buonasera. Grazie.